Accompagnare i giovani al di sotto dei 25 anni in su, dalla disoccupazione al mondo lavorativo. Con questo intento si è svolta nella sala convegni della Banca del Nisseno la conferenza finale del progetto europeo Job Assist. Un'occasione di confronto sulle strategie occupazionali e sulle politiche volte a promuovere l'occupazione, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore. Lo scopo di questo progetto è offrire degli strumenti a chi cerca lavoro, soprattutto due target specifici che si sono un po' rafforzati, tra virgolette, in questo periodo di crisi, cioè i disoccupati under 25 e over 45. Quindi su questi due target stiamo cercando di offrire degli strumenti che consentano loro di entrare meglio nel mercato del lavoro. Di fatto questi strumenti sono dei manuali che servono a formare questi due gruppi target. Non solo a formarli, ma servono anche a dare la possibilità a loro di capire quali sono le competenze più richieste in questo momento nel mercato del lavoro europeo. Oggi trovare lavoro è difficile sia perché c'è un problema dal lato dell'offerta di lavoro, però anche dal lato della domanda molto spesso chi cerca lavoro non sa come trovarlo e i servizi che lo dovrebbero aiutare, i centri per l'impiego, gli altri servizi di politica attiva, non sono abbastanza efficienti. Si è visto che lì dove i servizi che si occupano di politica attiva del lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'occupazione cresce, lì dove sono più efficienti, lì dove sono inefficienti il lavoro diminuisce. Allora il nostro progetto in questi due anni ha portato da un lato a fornire degli strumenti a coloro che cercano lavoro e a coloro che in qualche modo si occupano di politica attiva perché ha individuato quali sono le competenze che le aziende cercano, le competenze trasversali naturalmente, non quelle professionali di saper fare, che cercano quando debbono assumere una risorsa. Dall'altro il convegno di oggi ci dice anche che questo migliorare le competenze delle persone non basta se non ci sono servizi pubblici e privati efficienti che si occupano delle politiche del lavoro. La causa fondamentale della crisi che stiamo vivendo è la mancanza di lavoro per i giovani e purtroppo devo dire oggi anche per i meno giovani. Allora il fatto che vengano qui a convegno esperti della materia, anche autorità, non solo cittadini ma anche rappresentanti del mondo della politica, vuol dire mettere a rete queste istituzioni affinché si possano trovare soluzioni veramente reali per risolvere e lenire questo disagio.